I carabinieri del comando provinciale di Torino hanno eseguito una misura cautelare personale nei confronti di tre italiani, uno in carcere e due domiciliari, ritenuti responsabili in concorso di furto aggravato, ricettazione di autovetture e di porto abusivo di armi e munizioni. Gli arrestati fanno parte di un gruppo criminale che vede coinvolti altri 11 indagati per il reato di associazione per delinquere finalizzata ai furti, ricettazione e riciclaggio di autovetture, in particolare dei marchi Fiat e Abarth, che agiva in Torino e provincia. I furti erano commissionati dai carrozzieri, i quali cannibalizzavano le autovetture per ricambi e per rivenderele ai clienti ignari della provenienza. In cinque mesi di indagini i carabinieri della compagnia di Veneria Reale hanno accertato più di 14 episodi delittuosi e recuperate le furtiva per oltre 200.000 euro fra auto e pezzi di ricambio. Grazie a tutti.